Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video ancora Clash of Clans Ragazzi il BH8 finalmente è arrivato Ieri ho caricato invece l'aggiornamento del villaggio principale Quindi mi raccomando guardatelo Ho provato l'anello delle mura, i nuovi artefatti e tante altre belle cose Oltre il mercante nuovissimo Qua sopra la scheda cliccabile E anche qua sotto il link in descrizione e anche il mio server Discord Ragazzi ci siamo, siamo qui sul BH Quello che state guardando è il BH7 In questo video di oggi raga non potremo ancora vedere i gameplay Ma vi faccio vedere tutte le singole novità con la nuova sala E dunque 3, 2, 1 Eccolo qua ragazzi, sala livello 8 Cosa sblocca questo nuovo upgrade? Scopriamolo immediatamente Introduce nuovi livelli, una nuova truppa e un nuovo edificio difensivo Oltre anche ai dei piccoli bilanciamenti che tra poco vedremo insieme Questa nuova sala ragazzi sblocca un nuovo deposito di elisir Un'altra miniera d'oro Un altro accampamento ovviamente Un altro doppio cannone, un'altra Tesla occulta Un altro cannone e ovviamente anche un altro petardo Avremo poi altre due trappole a scatto Un'altra trappola a spintone e un'altra mega mina Ed ovviamente raga la nuova struttura difensiva Eccola qui, la mega Tesla Tra l'altro l'ho già maxato come state guardando qui per BH8 Distanza a 7 caselle Tipo di danno bersaglio singolo Ragazzi dovrebbero essere queste le statistiche Poi comunque prendete con le pinze ciò che vi sto dicendo Potrebbe variare anche leggermente con l'update finale Bersagli terra ed aria Attenzione E bersaglio preferito qualsiasi Una Tesla però mega Le sue scosse infliggono ingenti danni anche alle unità più coriacee Attenzione Danno al secondo 214 Punti ferita 1863 Vabbè che qui raga intanto è maxato Ma giusto per darvi un'idea E finalmente raga andiamo a vedere Che abbiamo anche due livelli nuovi per ogni truppa Il livello 16 Quindi da 14 a 16 Eccole qua Ho già fatto quindi la prova E sblocchiamo anche la nuovissima truppa È proprio lei signori Andiamo subito a guardarla di nuovo da più vicino Ripeto raga attenti perché arriverà il gameplay prossimamente Eccola qui signori Livello maxato Va bene così Eccola qui ragazzi Il pecca in tutto il suo splendore Eccola qui Con tutti i fulmini attorno bellissima Eccola qui Livello maxato Allora ragazzi ovviamente i bersagli è terra Tipo di danno singolo Peso sulle trappole 25 Velocità di movimento 16 Unità per accampamento 1 Sovraccarico è la sua abilità speciale Se distrutto Infligge 1340 danni Con una gigantesca esplosione Voglio provarlo assolutamente Punti ferita raga 5845 E il danno è di 594 al secondo Comunque sia ragazzi il tempo di costruzione del mega tesla È di 24 ore Giusto per darvi una statistica Magari le tempistiche vi interessano E dopodichè raga Velocissimamente vi dico anche Intanto posizioniamo questa come era prima Vi dico anche ragazzuoli I due nuovi livelli per ogni truppa Quindi dal 14 al 16 Ad esempio il barbaro furioso Da livello 14 al livello 15 Avrà più 9 danno per secondo E 27 in più Punti ferita Quindi vita Il gigante pugile invece Avrà a livello 15 Ad esempio Più 213 Punti ferita E più 6 danno per secondo E ovviamente a livello 16 Più 1 unità per accampamento E questo vale anche per le altre truppe Il cucciolo di drago ragazzi A livello 15 Avrà un bel più 7 DPS Quindi danno per secondo E 106 Vita in più Vi lascio qui ragazzi L'immagine che potrebbe interessarvi Ripeto ragazzi Qualcosa potrebbe cambiare Ma dovrebbe essere questo Il risultato finale Ricordiamoci anche che La macchina da guerra Adesso avrà più 5 livelli Quindi da 20 a 25 E finiamo anche parlando Del bilanciamento Per quanto riguarda La sala del costruttore Infatti ragazzi La ricompensa per gli scontri a 2 Ora aumenta Fino a 5000 Trofei E l'arciere furtivo Invece sapete che Ve ne ho già parlato In qualche video scorso Avrà un nerf L'abilità dell'arciere furtivo Manto A livello 12 È calata Da 10 secondi A 8 secondi Erano troppo OP A quanto pare E ragazzi per ultimo I punti ferita Della mongolfiera cimiteriale Sono stati aumentati Del 10% Per tutti i livelli Quindi un buff Per la mongolfiera cimiteriale E questo ragazzi È quello che avremo Quindi per il BH8 Ripeto I gameplay Li avremo prossimamente Quindi 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 Non mancate raga Non mancate Assolutamente Cosa ne pensate Generalmente Sia del bilanciamento Del gioco Ma anche delle novità Per il TH Quindi per il villaggio principale Ma anche per la sala del costruttore Assolutamente Fatemi sapere Cosa ne pensate Vi piace come cosa E tra l'altro Vi chiedo anche una domanda State giocando Dalla sala del costruttore Oppure no Per chi ad esempio Non ci sto giocando E sono ancora BH5 Sul mio account normale Ma giochicchio Più che altro Nel villaggio principale E non vedo l'ora Di provare il mercante Che ho provato Nel video di ieri Che trovate qui sopra Nella scheda Cliccabile Nella i All'angolo E detto questo Raga Noi ci vediamo Al prossimo videozzo Grazie mille per la visione Ciao Ciao